Sogni, 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 chi è che sogna questa sera? Guarda, non la servi da sola, dimmi dai, dimmi dai, che ti hai fatto con me? Dimmi dai, dimmi dai, non mi pare un grande, sembra soltanto un bel gioco, invece no, non c'è la maniera di cambiare. Io amo il cavale. C'erano una volta Nine Cats, tutti pazzi per il cabaret, che incontrarono The Producers, i quali li scritturarono in Chorus Line. Dopo aver sistemato sette spose per sette fratelli, cantando sotto la pioggia, entrarono nella piccola bottega degli orrori, dove insieme a Pinocchio, Fregoli, Street Charity e Brachetti in Technicolor si misero un po' di Grease, raccontarono una West Side Story e frequentarono High School Musical. Non sempre andavano d'accordo, a qualcuno piaceva caldo, a qualcun altro le notti di cabiria, c'era chi poi salutava e diceva sempre, hello Dolly, ma tutti insieme appassionatamente gridavano dance. Abbiamo introdotto la puntata di retroscena con un filmato prima, una sorta di blob ricco di flash che facevano riferimento a diversi musical e poi con questo mio racconto nonsense, direi demenziale, in cui mi sono divertito a mettere insieme alcuni, non tutti, i titoli di diversi spettacoli musicali. Mi rendo conto che abbiamo disorientato, creato confusione forse, però c'è un elemento che fa da tre d'ugnon, da filo conduttore, che lega tutte queste diverse, molteplici suggestioni che abbiamo già dato. Una persona che ci aiuterà ora a fare chiarezza, un artista che è considerato all'unanimità il re, l'icona, il punto di riferimento, la stella polare del musical in Italia. Insomma, in due sole parole, Saverio Marconi. Buonasera. Buonasera. Allora, quando si dice Saverio Marconi, per associazioni si pensa inevitabilmente alla Compagnia dell'Arancia. Lo sa a proposito che c'è una famosa trasmissione di Radio 2, Ruggito del Coniglio, che insomma per far capire quanto ormai siete famosi, siete diventati proprio un punto di riferimento che ha fatto una sorta di parodia sui musical e chiama la Compagnia dell'Arancida? Sì, questa è giunta a voce. Allora, prima di tutto, perché dell'Arancia? L'Arancia è un castello che sta vicino a Tolentino. La Compagnia è nata a Tolentino, appunto, nelle Marchi, che è un paese vicino a Macerata. E quindi, nascendo lì, questo castello è molto bello, molto particolare, si chiama Castello dell'Arancia e noi abbiamo preso il nome. Di fare riferimento a questo luogo. Sì. Come è nato tutto? C'è stata un'epifania all'inizio di questa passione? Beh, assolutamente sì. Io ho tutta una prima parte di carriera come attore, però ho sempre amato questo genere di spettacolo. Ho anche tentato di farlo in prima persona, ma nel canto proprio no, lasciamo proprio perdere. Quindi ne ho fatto uno, ma era in playback, perché non ce la facevo. Qual era, per curiosità? Era, si chiama Happy End, un piccolo spettacolo, due attori a Roma che tentavano di fare, insomma, ma che avevo scritto anch'io, però insomma non era cosa. Però la passione era tanta e quindi a un certo punto ho abbandonato l'arte interpretativa vera e propria. Sì, di fare l'attore, insomma ho smesso. La compagnia è nata nell'83, ma il primo musical l'abbiamo fatto nell'88, quando esattamente avevo 40 anni. Quindi ho cominciato a fare l'attore a 20, fino a 40, e da 40 ho cominciato a fare i musical, fino adesso. Certo. Meravigliosa amalgama di arte, creatività, commercio e talento che è il musical. Questa è stata una definizione che un produttore americano aveva dato. Lei la vorrebbe integrare in un altro modo, questa definizione? Beh, essendo in Italia io sto facendo una lotta ultimamente per cambiare nome. Cioè nel senso, la parola musical mi sta stretta, veramente stretta, perché in fondo traducendola vuol dire musicale. Sì. Quindi prendiamo questa parola dagli americani o dagli inglesi, insomma, e la facciamo diventare una sorta di cosa divertente, una specie di un genere un po' particolare. No. Secondo me si tratta di teatro musicale. E nel teatro musicale c'entra tutto. Certo. C'entra qualsiasi cosa, persino l'opera. Certo. Quindi, ecco, quello che noi facciamo è il teatro musicale. Poi lo vogliamo chiamare musical, chiamiamo musical per dire che non è italiano. Sì, non siamo riusciti ancora, direi, ad affermare, a fare affermare questa nuova definizione di teatro musicale, perché musica, insomma, fa sempre più scena, in un certo senso attira di più. Però, insomma, ecco, l'idea è quella. Sì, la lotta che voglio fare adesso è questa, cioè, incominciare. E l'appoggio pienamente. Io mi sono costruito la mia carriera e sono stato onesto con me stesso e con gli altri, sono parole sue. Quando? Sì, è vero che l'ha detto, però che cosa intendeva dire sul fatto che sono stato onesto con me stesso e con gli altri? Ma ho fatto quello che volevo fare. Cioè, io c'ho un po' una massima che ho scoperto, andando avanti, che chi è un uomo di successo? Cioè, mi sono fatto questa domanda, chi è un uomo di successo? Tutti pensano uno che è famoso, ha raggiunto popolarità, no. Una persona di successo è una persona che riesce a vivere con l'amore che ha, con il lavoro che ama. Questo è il successo. Quindi io riesco a pagare le bollette, le cose, vestire, mangiare, eccetera, con il lavoro che amo, sono un uomo di successo. Quando si crea quella perfetta armonia fra ciò che si è e ciò che si fa, no? A me è venuto in mente adesso un libro culto, no? Degli anni Ottanta, lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta di Robert Persig, dove parlava a un certo punto della qualità, che cos'era la qualità con la Q maiuscola. Anzi, era un tema che dava questo professore, questo personaggio del libro, ai suoi ragazzi. e chiedeva di descrivere cosa fosse la qualità nella vita. E alla fine la conclusione fu che la qualità è laddove c'è il più possibile sintonia fra ciò che si è e ciò che si fa. Esatto. Adesso ho fatto questo excursus, mi è venuto in mente e me l'ha suggerito lei. Circa è questo. Torniamo al presente più contingente, e quindi Pinocchio. definito la più grande produzione italiana di sempre, il Colossal, il musical dagli effetti speciali stile Broadway. Poi sappiamo le musiche dei Poo, insomma, se ne è parlato molto. Io sapevo il musical che voleva conquistare le terre straniere che ci è riuscito, andando in parte, almeno lambendo l'Estremo Oriente. Esatto. Ora è ancora al Teatro Sistina di Roma, io vorrei dare qualche suggestione e poi ne riparliamo. Questo Pinocchio non ha in realtà le movenze di un burattino. Gioco a fare il bambino di 12 anni, non ci si crede. Diciamo che siamo stati fedeli alla favola, quindi non si è tradita la magia della fiaba di Collodi, anzi è stata arricchita di altri personaggi, come per esempio Angela, che è questo personaggio, questa donna da sempre innamorata di Geppetto, e che viene un po' a sottolineare poi nel finale la figura della famiglia, che hanno padre, madre e figlio. Che non è noioso, davvero, è divertentissimo, è un grillo che balla l'hip hop, canta il rap, quindi... Pinocchio! Non da rap a questi due valori! No! Il grande progetto sarebbe quello, appunto, il primo musical italiano da esportare. No! 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 No!